buonasera a tutti vediamo un attimino se siamo collegati non mi pare non mi pare sì forse sì paola ok ci siamo ci siamo ci siamo ok un attimino lente ma ce la stiamo facendo ciao da lise carissima sono andata a fare l'autografo è quindi quando vuoi e la perfetto autografo sul libro intendo benissimo ok si pare proprio che stia funzionando speriamo che non ci siano problemi non vedo commenti ma comunque vedo chi partecipa ecco solito commenti non ne vediamo neanche uno ciao valeria carissima perfetto pare che vada bene non vedo i commenti l'unica cosa non vedo i commenti però vedo che ci sono le visualizzazioni va bene accontentiamoci magari si sblocca la situazione magari si sblocca la situazione può darsi possibile stavo ben guardando no non ci sono proprio vedo soltanto chi partecipa e non vedo i commenti va bene poco poco male li vedrò dopo se saranno visibili l'importante che è però veramente non riesco a sapere se voi riuscite a vedermi sentirmi a questo punto spero di sì mi auguro di sì perché non ho possibilità di di controllare questa cosa va bene eh sì niente non è possibile non vedo i commenti quindi se voi non riesco a vedere quello che voi scrivete perché mi viene soltanto fuori chi sta guardando e forse neanche tutti perché ci sono la dalis la paola salvatore ciao anzi valeria e continua a ripetersi valeria 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 ma non vedo nient'altro non vedi commenti sarebbe interessante capire perché però io qui non ho altra possibilità di fare niente devo dire che non penso che ci sia che sia allora no non posso fare nient'altro no non posso fare niente va bene d'accordo va bene io direi ci sono davanti un pochino tutti voi mi riuscite a sentire a vedere spero io non riesco a leggere i commenti spero che voi riusciate a sentirmi a vedermi bene ecco oggi dunque cosa volevo dirvi ah sì volevo dirvi che sono disponibili se le volete la libreria Katie King di Cesenati quei libri con dei pensieri che ho scritto per chi ne farà richiesta e arriverà con un pensiero mio chi vuole chi lo desidera ovviamente perché sono qui in zona quindi ho potuto farlo che oggi mi ha lasciato un mio carissimo amico e quindi sono un pochettino non dico triste perché me lo aspettavo però è una persona che per me è stato estremamente importante che ha scritto la retrocopertina del mio libro ero un medico ha fatto tanto del bene credeva molto nella vita oltre la vita e quindi questa cosa mi dà molta serenità perché sono sicura che se c'è un posto in paradiso le porte si sono spalancate per questa persona perché so quanto bene abbia fatto in vita in tutti i modi come volontario fino all'ultimo e anzi fino all'ultimo si era ammaricato perché avrebbe voluto fare ancora più bene di quello che ha fatto e ne aveva fatto già tanto quindi una persona davvero speciale che io sono felicissima di aver conosciuto me l'aveva presentata all'epoca il grande Riccardo di Napoli perché era un suo carissimo amico e me l'ha fatto conoscere lui era interessato alle esperienze NDE ovviamente le esperienze ai confini della vita da medico chiaramente da psicoterapeuta e amico chirurgo e quindi questa cosa ce l'ha fatto avvicinare inizialmente per uno scopo puramente diciamo scientifico tra virgolette ma poi è nata anche una sincera stima e amicizia tanto che negli anni si è rafforzata sempre di più quando poi Riccardo è andato via è rimasto la mia siamo rimasti io e lui e quindi ci siamo appoggiati a vicenda sorretti a vicenda lui mi è stato sempre vicino sempre sempre ha avuto sempre grande stima di me devo dire la verità non l'ha mai nascosto e oggi più che mai sono veramente orgogliosa di avere dato il retro copertina del mio libro in mano a lui e che lui mi abbia fatto la recensione perché oltre ad essere un medico è una gran brava persona quindi ancora una volta questo lo vedo un dono perché invece di avere persone magari con nomi altisonanti che a volte non hanno poi dietro questi nomi altisonanti magari una vita altrettanto esemplare o come dicono loro retta io sono sicura so so e tutti quelli che l'hanno conosciuto lo sanno che il Carlo era così e quindi io sono doppiamente onorata di avere avuto questo privilegio di averlo incontrato che lui abbia fatto questa cosa per me con grande affetto con grande stima che non mi ha mai nascosto e quindi oggi più che mai le dico grazie perché so che lui adesso mi sente legge nel mio cuore e sono certa che è in paradiso assolutamente sì cosa che ho detto anche stamattina a sua figlia quindi io partirei non vedo niente mi dispiace i vostri commenti non riesco a vederli quindi non riuscirò neanche a vedere le vostre conferme mi dispiace purtroppo vorrei capire il motivo di questa cosa ma non sono ancora riuscita a capirla perché fa così ecco proprio non lo riesco a capire però siccome io sapete che vado abbastanza sicura su quello che faccio quindi io farò lo stesso i contatti andrò chiaramente a ruota libera perché non potrò chiaramente verificare niente in nessun modo quindi mi dispiace accontentatevi per questa sera va così continuano a crescere i numeri io sto dando un po' di tempo per entrare tutti quanti non penso che sia il caso che io chiuda qui per aprire un altro video in diretta che probabilmente succederebbe la stessa cosa perché ultimamente su facebook succedono delle cose veramente strane devo dire quindi vabbè accontentiamoci dai tanto l'importante poi i messaggi che do che arrivano quindi quando li sentite voi io sono già contenta quindi non ho bisogno poi di grossi riscontri poi chiaramente me li potrete dare in un secondo tempo perché io lo dico sempre non è obbligatorio dare un riscontro però è corretto verso chi magari non riceve se uno non vuol farlo pubblicamente può farlo anche privatamente stasera tra parentesi ci sono molte persone che non potranno essere presenti ma hanno scritto purtroppo perché opportuni di lavoro o perché sono chiamano in estate quindi sono in vacanza e tutti hanno detto vabbè guarderò in differita perché ormai hanno imparato che nelle mie dirette i messaggi arrivano a prescindere quindi vanno a destinazione anche in differita come dico io perché è così quando arriva un messaggio c'è sempre un ricevente che l'attende quindi che lo riceva oggi o domani o dopo domani è la stessa cosa l'importante è che vada a buon fine quindi con la massima serenità faccio questa cosa quindi anche se non vedo va bene quindi adesso io direi facciamo tutti insieme un momento di raccoglimento ok e di preghiera chi lo vuole nel suo cuore secondo il proprio credo sapete che non massimo rispetto per tutti e per tutto quindi proprio uniamoci in questo grande abbraccio d'amore insieme e per tutto Ok, partiamo. Chiaramente quando si è così in tanti come in queste dirette può succedere che un nome abbia più di una persona, quindi io mi auguro sempre che nello sviluppo del messaggio arrivi qualcosa per cui venga definito di più, però delle volte quando dicono anche delle cose diciamo inizialmente che dicono solo un nome qualcosa di più banale, tra virgolette se possiamo dire banale, può valere comunque per tutti. Perché loro non ripetono due volte lo stesso nome, non so Andrea ti vuol bene, Andrea ti vuol bene, ipotesi, ovvio, questo lo faccio sempre come esempio, lo dico una volta e comunque arriva nel quale di chi deve arrivare. Poi magari la cosa si sviluppa e dice magari Andrea ti vuol bene, hai fatto bene a scegliere, che ne so, quel colore sulla parete, adesso per dire una cosa ovviamente così ma per farvi capire. E quindi il messaggio più un'altra piega perché chi ha chiaramente avuto questa cosa in casa sa che, perché a volte spesso dicono cose che succedono proprio in famiglia, in casa, anche se questa settimana mi è capitato in un contatto, che addirittura aveva detto proprio una cosa che la mamma e la figlia avevano discusso sul colore del marmo e io non capivo cosa volessero dire questa cosa e poi mi ha spiegato che stavano comprato la cucina nuova e quindi la mamma e la figlia discutevano sulla scelta del top da mettere sopra il colore del marmo, da scegliere per il top della cucina. Quindi per dirvi, non che siano cose importanti, però per farci capire che loro sono presenti nella nostra vita, proprio nella quotidianità, cosa che io insisto sempre e che ho imparato in questi anni a capire. Quindi questa è una parentesi. Benissimo, allora io direi di partire. Ok, quindi ho creato l'umore. Adesso faccio, sempre per gli ultimi arrivati, faccio un piccolo rallentamento. e ampliamento della striscia, diciamo, del tracciato, però non viene modificato in nessun modo e tutto viene fatto al momento. Ecco, non ho niente di pre-registrato, ci tengo a dirlo, perché credo che l'energia che si crea nel momento è impagabile, perché loro parlano sempre di onde, onde di energia, quindi credo che la cosa fatta in estemporanea abbia sicuramente una carica energetica più alta, ecco perché. Allora Benissimo Ok, ok. Allora Allora Allora, c'è un Enrico, Enrico Ciao papà Allora Enrico Ok, allora Allora Attimino che è andato avanti Qua Allora, ripartiamo Ecco qua Enrico Ciao papà Ciao papà Ciao papà Si sente molto bene Si sente molto bene Enrico Ciao papà Andiamo avanti Allora 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 Dice qui c'è Dio 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 Poi Dio 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 che si chiama Enrico poi dice liberi liberi come per dire che finalmente sono liberi perché non hanno più le restrizioni della materia, della sofferenza, della carne di tutto quello che è la vita materica no? dice liberi liberi, sentite come si sente bene stasera è pazzesco liberi liberi ricordo sempre a tutti che è un fruscio quindi si stanno formando da un fruscio queste parole poi dice c'è il sole c'è il sole quando si parlano del sole chiaramente che sia come se fosse che dio no? c'è il sole c'è il sole c'è il sole baci qua senti ho già sentito anche se con le cuffie ho sentito baci baci sentite baci a meno che non sia baci che non sia il mio amico Marcello baci baci ecco in questo caso ci dice baci potrebbe essere baci come baci oppure se c'è come sapete che c'è Marcello baci che ogni tanto viene che è stato un grande metafonista e lui ogni tanto viene perché ha detto che è il timone della mia della mia barca e quindi è possibile ok? quindi adesso ho sentito baci allora baci ok un attimo vediamo un po' baci baci si sembra proprio baci o baci sembra perché baci sembra ho il dubbio che sia Marcello vediamo se mi dice Marcello Marcello dimmi se sei Marcello se sei tu o se sono baci baci scherza dice Marcellino è Marcello baci ok baci Marcellino non so se c'è suo figlio in connesso non lo so se è collegato Marcellino vabbè comunque glielo facciamo arrivare non c'è problema baci Marcellino ok baci Marcellino perché lui poi è scherzoso perché devo dire la verità che però con suo figlio questa cosa è saltata fuori è proprio un vero toscano no? molto spiritoso e dice baci allora baci quindi confermo Marcellino è ritornato ve lo faccio sentire tutto baci baci Marcellino sentite ah aspetta il nome è partito Marcellino Marcellino sentite ciao Marcello ciao Carlo grazie onorati sempre quando arrivi lo sai grande sempre accogli mio Carlo mi raccomando mi raccomando Dice amore è guarito, allora amore è guarito, come per dire che lui con tutto l'amore è guarito, è guarito ora sta bene, è guarito perché è molto amato, anche da noi ovviamente, sentite, amore è guarito, lui legge nei nostri cuori quindi lo sa, sa assolutamente che è un sentimento sincero, loro non si può mentire, assolutamente, amore è guarito, amore è guarito, ok amore è guarito, poi sentiamo qua cosa dice, perché in un'altra diretta Marcello aveva detto che lui era il timone della nostra barca, ecco, però è forte questa cosa adesso che dice Marcellino, proprio un tono affettuoso, no? Allora dice il telefono è piccolo, no? Come per dire che forse, non so, dalla loro parte, il telefono è piccolo, forse parla del mio, forse parla del mio telefono, che è più facile, il telefono è piccolo, ascoltate, si sente molto bene, il telefono è piccolo, il telefono è piccolo, sapete che ve lo chiamano telefono queste comunicazioni, quindi con il telefono è piccolo, e il telefono è piccolo, ok? Andiamo avanti, allora, però funziona, ok? Si stanno rivolgendo al mio telefono, ok? Perché mi dà qualche problema, dice, però funziona, il telefono è piccolo, però funziona, ok? Ok, però funziona forte, vedi che è sempre spiritoso, però funziona, ok? Il telefono è piccolo, però funziona, eh sì, funziona, sì, perché ovviamente io guardo voi col telefono mio piccolo e dall'altra parte sul computer faccio il resto, no? Mamma, dice, timone sempre, timone sempre mi, cioè timone sempre io, cioè conferma quello che ho detto, però lo potete sentire con le vostre orecchie, capite? Timone sempre mi, capito? Mi nel senso me, capito? Io, quindi conferma quello che ci ha detto nel messaggio, chi era presente lo sa l'altra volta, timone sempre me, timone, sentite, timone sempre mi, timone sempre mi, come per dire, ci sono sempre io al timone, no? Senti come si sente bene, ci tiene proprio a dirlo questa cosa, eh? Ok, va bene, dai, Marcello, grazie, aiutaci, aiutaci, ecco, porta più persone che puoi qua, a questo ponte, a lasciare un messaggio, che sono tanti i quali che hanno bisogno di tante carezze, quindi abbiamo assolutamente bisogno che tu stia al timone. Dice bene, ti ringrazio, dice bene, bene, ti ringrazio. Sarà contentissimo suo figlio Marco quando sentirà questa cosa. Sarà già felice, ci sentiamo ogni tanto, mi chiama, ci sentiamo, però non so, perché non vedendo, non so se, non so se, all'ascolto onestamente. Bene, ti ringrazio. Bene, ti ringrazio. Bene, ti ringrazio. No, no, noi ringraziamo te. Io ringrazio te, sempre, onorata di averti con me. Benissimo. Facciamo un altro tracciato. Ok. Continuerai col fushi perché vedo che va bene. Allora vado, vado, vado. Vediamo un po' chi c'è al ponte. Ok. Allora, salva progetto. Perfetto. Benissimo. Ok. Vediamo. C'è. Questa è la mia voce. Aspetta un attimo. C'è. 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 Ma guarda te, hanno usato la mia voce. All'inizio della registrazione ho parlato, ok, e loro di, vedi che ho parlato prima, ma, vieni, aiutami a far venire al ponte le persone, no, farle, e si sente, c'è il ponte. Io non ho detto questa parola, c'è il ponte. Allora, control B, c'è il ponte. Vedete, quando io dico che quando c'è, quando si è, nel canalizzati, nella comunicazione, usano veramente tutto, indipendentemente dalla radio, italiana, estera, fushi, o qualsiasi cosa per loro è buona per comporre, anche la nostra voce. Ascoltate, eh. C'è il ponte, quindi il ponte per comunicare. C'è il ponte, sentite, c'è il ponte. Hanno usato la mia voce. Pazzesco. Ok, va bene, c'è il ponte, quindi confermato, no? Ok, va bene, c'è il ponte. Ok, va bene, c'è il ponte. C'è il ponte, qua Roberto, c'è il ponte, qua Roberto, qua Roberto, qua Roberto, ok, qua Roberto, ok. Roberto, qua Roberto, sentite. Ok, va bene, qua Roberto, ok. Dice, parlare sempre, come per dire che lui forse, credo, cerchi di parlare sempre con i suoi cari. Parlare sempre, ovviamente non viene udito purtroppo, ecco perché sta dicendo questa cosa. Parlare sempre, perché loro delle volte ci abbracciano, cercano di consolarci, perché ci vedono magari disperati, no? E fanno di tutto per aiutarci, anche a parole, c'è nel senso, trasmettendo parole, trasmettendo il loro amore. Parlare sempre, io ti parlo sempre, no? Ci sono sempre. Parlare sempre, ok, parlare sempre, quindi se c'è un Roberto, mi raccomando, qui si vede, no, si vede niente, va bene. Parlare sempre, allora dice una cosa, probabilmente per farsi conoscere, probabilmente lui in vita era molto goloso dei gelati, proprio il gelato, e dice, praticamente, aspetta, eh. Ok, io voglio qua il gelato, come per dire che ancora adesso vuole il gelato, probabilmente era molto goloso di gelato anche in vita, lo fa per farsi riconoscere, anche se può essere un riscontro banale. Io voglio qua il gelato, probabilmente in vita ne mangiava veramente tanto, e lo dice per questo motivo, immagino, per farsi riconoscere. Ok, io voglio qua il gelato, ascoltate. Io voglio qua il gelato, io voglio qua il gelato, sentite. Forte, si sente benissimo, quindi se gli piaceva probabilmente il gelato anche in vita, ecco questo, ecco devo dire, va bene. C'è un nome però, non capisco se è germano. Allora, quando c'è una cosa che non sono molto sicura, che non è abbastanza chiara, cerco di rallentarla ulteriormente, soltanto quel pezzetto, quindi non posso farlo tutto perché non va bene. Ok, quindi. Anche rallentato si sente male, sembra ermanno, germano, germano, ormanno. Cioè, ve lo faccio sentire, potrebbe essere tutte e due, c'è un po' un dubbio sinceramente. Mi sembra germano, poi mi sembra germano, potrebbe essere anche germano. Vabbè, comunque. Mi sembra più germano, ad essere sincera, eh. Così a orecchio, con le cuffie si sente meglio e quindi con le cuffie si sente proprio più germano, direi. Sì. Sì, concentrandomi sulle prime lettere, la G. Sì, direi germano, sì, con una buona margine di sicurezza, per quanto, chiaramente, la difficoltà di quello che è il fruscio, che può, su certi nomi, come in questo caso, è meno chiaro. Però, mi sembra proprio germano, va bene. Chiaramente, lo dico sempre, io con le cuffie ho riscolto privilegiato rispetto a voi che è riportata dal computer al telefonino, ecco, quindi è un pochino più complicato, eh. Allora, va bene. Allora, se c'è un germano fra di voi che ascolta, perché è un nome poi particolare, lo faccio risentire. Germano, ok. Sì, sì, germano, è G davanti. Sì, sì, lo confermo. Germano, ok, va bene. Germano, quindi lo do per sicuro, va bene. Dice, lui è bello, probabilmente era bello anche in vita questo germano, dice, lui è bello, lo dice con una certa, lui è bello. Lui è bello. Allora, lui è bello. Lui è bello, senti come si sente bene. Capito, germano, lui è bello. Lui è bello, ok, quindi. Ok, forse si riesce, no, sembrava che ci erano fatti sui commenti, no, niente, volevo vedere, avere qualche... Ok. Grazie a tutti Ok dice una cosa particolare Dice mai ho detto io queste azioni Come per dire che forse lui non avrebbe mai detto Che avrebbe comunicato così Che forse non credeva nemmeno che la vita proseguisse Mi viene da pensare questa cosa Magari mi sbaglio Mai ho detto come per dire non avrei mai immaginato Io queste azioni Come per dire che io mi sarei messa qui Mi sarei messa qui a parlare Attraverso questo metodo Queste azioni Come una cosa che lui pensava magari Non lo so che in vita Pensava che la vita finiva e non c'era più niente Non c'era più nient'altro E quindi questa cosa Mai avrei detto che avrei potuto comunicare Che avrei comunicato Che la vita continua Adesso potessi leggere i commenti Avere il riscontro Se c'è un germano E se queste cose che dice Possono essere capito Il fatto che sentisse bello Perché chiaramente non lo so Che non era probabilmente Non credeva in queste cose Io la leggo così Mai ho detto io queste azioni Non ne ascoltate Perché secondo me ha un significato E per chi lo riceve Mai ho detto Io queste azioni Sentite o sentite bene Io queste azioni Ok Quindi Va bene Perfetto Infatti dice Qui c'è Dio Ecco E la sua sorpresa No Qui c'è Dio Qui c'è Dio Qui c'è Dio Vedete Qui c'è Dio Quindi Come per dire Secondo me non era una persona Che in vita credeva E quindi la sua sorpresa grande Nel vedere che Però questo non vuol dire Che fosse Sicuramente una brava Una brava persona Perché Ovviamente Se parla e tutto quanto La vedo in questo modo Quindi Qui c'è Dio Quindi la sua sorpresa No Quindi Se qualcuno Riconosce questa cosa Magari Ne dia Insomma Di un segno Se può Almeno le leggono gli altri Se non posso leggerlo io Ecco Qui c'è Dio Qui c'è Dio Ok Va bene Ok E lode sempre Qui c'è Dio E lode sempre E lode sempre E lode sempre Cioè sentite che messaggi Qui c'è Dio E lode sempre E lode sempre E lode sempre E lode sempre Ok Senti bene E lode sempre Ok Benissimo Facciamo un altro tracciato Ok Va che forse cominciano Vedo una gloria Forse cominciano Bene Forse si è sbloccato Forse si è sbloccato Aspetta un attimo Fammi vedere un po' Ok Pari di sì Fammi vedere Sì si stanno ripartendo i messaggi Meno male Meglio tardi che mai Aspetta che vado indietro Che voglio vedere Se c'è qualche conferma Che non l'ho visti C'è una Danila che dice Non so se lui Che si sentisse bello Però non credeva affatto Nel nulla Nell'aldilà Dell'aldilà Ah E il nome ti torna Danila Questo non lo so ancora Danila se ti torna Il nome Ah sì Danila Rossetto Conosce un germano Ecco Allora ci siamo Se c'è anche il nome Sì Allora sì Allora sì Ok Allora sì Non credeva Nel nulla L'ha fatto l'aldilà Ecco Quindi ecco perché Questa cosa di dire Di Dio Capito Il grande stupore Che si stupisce Di essere qua a parlare Perché probabilmente Era uno che pensava Che la vita finisse E finiva lì Ok io adesso riesco A vedere i messaggi Non so quanto dura Però va bene Dai Sono partiti adesso Bene 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 Quelli privati Non lo so Non posso andare così indietro Comunque Se no perdo troppo tempo Va bene Allora proseguo Allora Vado Ok Perfetto Va va Quattro Va bene Ok Vado all'ascolto Allora C'è un felice Io Non so se Magari può essere anche per me Che io ho un cugino Che si chiama felice Quindi lo dico Però C'è un felice Se non è per nessun altro Non dice qualcosa di particolare Allora Vediamo un attimo Qui felice Dice Allora qui Felice Che nome particolissimo Qui felice Ok Faccio sentire Potrebbe essere anche qui felice Nel senso sono felice Adesso vediamo un po' la frase Andando avanti Sì Qui felice Sentite Ok Vediamo un po' Se ci dici qualcos'altro Si è il mio cugino Tranquillo Ok Cugino Lo dice Il mio cugino Ok Guarda l'ho detto Il mio cugino È il mio cugino Va bene Ok Ciao felice Ciao carissima La prima volta che lo sento Da quando È mancato tanto tempo fa Quindi Un bacio Grazie di essere venuto Grazie infinite E mi fa doppiamente felice Sentirti Tu sai perché Cugino Cugino Sentite Cugino Ok Intanto arriva qualcosa Anche per me Dice Proseguire ti auguriamo Proseguire ti auguriamo Ok C'è un motivo per cui mi ha detto questa cosa Proseguire ti auguriamo Sentite Proseguire ti auguriamo Dice proseguo Proseguo però E proseguire ovviamente Ecco lo dico Proseguire ma è proseguo Ti auguriamo Ascoltate Proseguo Proseguo Ti auguriamo Adesso attaccato Ti auguriamo Sentite Proseguo Ti auguriamo Grazie 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 No grazie a voi Grazie a te Grazie che permette sempre questi contatti Grazie Senti Senti bene Grazie Cioè Grazie Sentite Grazie Questo grazie a prato Fuori in un ambientale Non c'era nemmeno sotto il suono Perché c'è il tracciato che è assolutamente lungo Non c'è niente Niente Non c'è nessun capito Grafico Proprio dal nulla Ok Ok E poi dice Viva il lupo sempre No Contro Come dire in bocca al lupo No Viva il lupo Sempre Allora Viva il lupo sempre Anche questo ha per me un significato rispetto a lui Viva il lupo sempre Viva il lupo sempre Ok Viva il lupo sempre Ok Va bene Lina mi chiede Come sta la tua mamma Bene Bene Lina Lo avete visto adesso Si è passato tutto Grazie a Dio È andato tutto bene Grazie Grazie comunque del pensiero C'è un Lorenzo Qui c'è Lorenzo Qui c'è Lorenzo C'è un Lorenzo Ok Qui c'è Lorenzo Qui c'è Lorenzo Sentite Senti bene Qui c'è Lorenzo Ok Qui c'è Lorenzo No Aspetta Allora Dice È in pigiama Lorenza Quindi Io penso che È in pigiama Io non so questa cosa È in pigiama Dice È in pigiama O che vede qualcuno Che è in pigiama Non lo so È in pigiama Perché Chiaramente Non loro ovviamente Ok È in pigiama Quindi se qualcuno Ha un Lorenzo Ed è adesso in pigiama Ok Quindi Già ci sono due cose Andiamo avanti È in pigiama Sentite Ok È in pigiama Si sente benissimo Ok Poi vediamo cosa dice Se mi dice un nome Oltre questo È in pigiama Lorenza È in pigiama Lorenza Possibile Lorenza Ok È in pigiama Non mi è partito Ok Lorenza Ok Quindi chi è che si riconosce In questa cosa Chi è che è in pigiama Chi è che è in pigiama C'è qualcuno che è in pigiama Lorenza Lorenza Non so se è in ascolto Perché non l'ho visto prima Quindi non lo so Però ha dato questi riferimenti Vediamo un pochettino Allora Lorenza dice Il mio papà Voglio sapere Lorenza Ok Io so che Potrebbe starci Però è una mia curiosità Se tu hai pigiama In questo momento Toglimi questa curiosità Perdonami Perché Allora Lorenzo È il papà di Lorenza E va bene Però mi dice Che Lorenza è in pigiama Io adesso voglio sapere Se Lorenza è veramente in pigiama Quindi Se Lorenza Se mi senti Se puoi darmi un riscontro Ecco Mi farebbe Mi farebbe piacere Perché Sono curiosa Sono curiosa Quindi Dimmi tu Se ti torna questa cosa Comunque Beh Tu sei Lorenza Lo sappiamo benissimo Tuo papà si chiama Lorenzo Ed è vero E dice È in pigiama Ecco questa cosa Io sono in pigiama Eccolo qua Lo sapevo Guarda Volevo togliermi questa Volevo proprio saperlo Lorenza Guarda Questa è fortissima Questa è fortissima Guarda Incredibile Sono felice per te Dai È proprio tuo papà Vedi che ti vede Ecco Dovete sapere Che il papà di Lorenza Si chiama Lorenzo Quindi vedi che il messaggio Torna Perché Dice Qui c'è Lorenzo E infatti suo padre Si chiama Lorenzo Qui felice Quindi Ovvio È in pigiama Lorenza E quindi Lei si chiama Lorenza Ed è in pigiama Me l'ha confermato Che è sua figlia Ecco quindi Devo dire Fantastico Vedete qua Ci sono tre riferimenti Tutti e tre Ad hoc Quindi A posto Andiamo avanti Bene sono contentissima Comunque mi fa sorridere Comunque sono contenta Ovviamente Scherzi Lo sai Allora Aspetta che abbassiamo l'aria Condizionata Sennò Su gelo Vado avanti Ok Vado avanti Quindi questo vi dimostra Al di là del messaggio Che vedono 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 Non è che Sentono soltanto Loro ci vedono Sono proprio nella nostra Quotidianità Ci vedono Ci vedono Ecco E questo è il fatto Io mi sforzo sempre Di far capire Che fa sorridere Ma per far capire Che vede Ok Io non vedo Che com'è Lorenza in casa Ovviamente No Né un'informazione Che posso vedere Da nessuna parte Ecco questo Per togliere Qualsiasi dubbio Ok Quindi felicissimi Tutti per Lorenza Ovviamente Allora aspetta Te lo faccio risentire Va tanto ce l'ho qua Allora Qui c'è Lorenzo Qui Alziamo un po' Qui c'è Lorenzo Ok In pigiama In pigiama Sentiremo Mi sente bene E qui Lorenza Lorenza Vedi finisce Quella finale Lorenza Lorenza Bellissimo Fantastico Davvero Fantastico Un bacione Allora dice Vedi Ha sentito Quello che ho detto E dice Il senso è Che noi vediamo Questo vuol farci capire Control B Il senso È Che noi Vediamo Quindi ha sentito Quello che ho detto Vedete Che rispondo Vedete che è interattivo Io dico una cosa E loro confermano Il senso è Che noi vediamo Ascoltate Allora Il senso Il senso Ok È che noi vediamo È che noi vediamo È che noi vediamo Che noi vediamo Vedete Il senso è Che noi vediamo Ecco Questo voglio far passare Il messaggio Che loro vedono Vedono Ok Non è che ci sentono Soltanto Ok Andiamo avanti Ok Vi rendete conto Che mi fanno Anche fretta Ho detto Spicciati No Ma vi rendete conto Spicciati Come sempre Veramente Mi sto spicciando Eh Non è per male Allora Spicci Ve lo faccio sentire Sono anche spirituosi Spicciati Allora Spicciati Spicciati Muoviti Spicciati Ci posso credere Hanno preso Troppa confidenza Incredibile Sono incredibili Va bene Dai Muoviamoci Facciamo un'altra Registrazione Va bene Spiccio Muove Vado Vado Proseguo Col fuscio Vediamo un attimo Ok Ok Vado Ok Dice su Allora Questo messaggio Che forse dicono Così in generale Dice su Su è vita Su è vita Quindi confermano Che su c'è una vita Non sono delle cose Riposo eterno Cosa del genere Su è vita Ascoltate Su è vita Su è vita Su è vita Sentite Ok Su è vita Ok Dice Noi tutti bene Ora si Ora si Loro spesso Parla Noi Noi Tutti Bene Perché sono un unico Abbraccio Veramente Ora si Come dire Ok siamo qui Stiamo veramente bene No Questo lo dicono spesso Noi tutti bene Ora si Questo messaggio Questo messaggio Che è bene per tutti Ovviamente Anche quelli che non hanno Ricevuto Noi tutti bene Noi tutti bene Ora si Ok Poi andiamo avanti Perché poi voi non vedete il grafico Delle volte le parole Vengono proprio fuori dal nulla Cioè non è nemmeno il tracciato Il segno del tracciato Di quella Della voce Ecco quindi per dirvi proprio Dall'ambientale più puro Ecco Allora un attimo solo Ecco c'è un Elia Dice Elia invia baci Si sente sotto Ma Elia Elia Invia Baci C'è un Elia Elia invia baci Elia Elia invia baci Elia Dice Elia invia baci Ma Elia ovviamente Questo è proprio ambientale puro Questo è proprio ambientale puro Elia invia baci Quindi Elia invia baci Ok quindi se c'è un Elia Ok Eh sì Sì Vado avanti C'è un Elia Mi ricordo più il nome Forse della Lucia Mi pare che ha Non voglio dire una stupidata Che la Lucia Suo figlio si chiama Elia Però non so Perché non ho visto più i miei commenti Non so se è in linea Se c'è Va bene Comunque Se è il suo Vediamo un attimino Elia ha un nome poi molto particolare In questo qua Andiamo avanti Poi dice una cosa particolare Questo Elia Forse dice Fermo Ascoltate Dice Fermo periodici Non so cosa vuol dire Se magari era Che ne so Abbonato dei periodici Che è appassionato Di capito Periodici Sono quelli Possono essere riviste Quotidiani Per quindicinali Ecco periodici Ok Fermo Come per dire Non prendo più i periodici No Periodici Penso Fermo Penso Voglio dire questo Fermo periodici Elia Elia invia baci Fermo periodici Sì 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 Ok Fermo periodici Non so se una persona Adesso ho detto Questo Elia qua Se si faceva Magari potrebbe essere Che ne so Abbonato a qualcosa Che gli arrivava Ci sono quelle persone Che sono appassionate Dei periodici Quindi dice Fermo periodici Forse per farsi riconoscere Può essere Io non so la vita Chiaramente Quindi Dico quello che sento Vado E Sì Sì No, devo rallentare, scusate che questa parola non mi convince, preferisco rallentarla, allentiamola un pochettino, dai così magari diventa più chiara. Ok, allora, probabilmente si riferisce a qualcosa che è successo secondo me. Dice che spacco succede, come se si fosse rotto qualcosa, che spacco succede, quindi ha dato un riferimento particolare. Ok, Elia invia baci, fermo periodici, che spacco succede, quindi qualcosa che si è rotto oggi, in questi giorni, quindi per far vedere sempre che vedono quello che succede, può essere uno spacco in un vestito, uno strappo, capito? Che spacco succede, quindi è qualcosa che è successo, ok? Che dovrebbe aiutare a farlo riconoscere questo Elia, perché è un nome, ha detto i periodici, anche che spacco, quindi va bene, allora, che spacco succede, sentite? Che è ralentato, eh, quindi l'ho ralentato perché avevo il dubbio. Che spacco? Che spacco? E poi dice succede. Succede, come per dire successo. Ok, quindi queste cose dovrebbero aiutare la persona a riconoscere queste Elia, eh, sicuramente. E poi dice croce i tuoi problemi, quindi croce i tuoi problemi, vedete che dice le cose personali, quindi escuto un messaggio sicuramente di qualcuno, croce i tuoi problemi, ok? Croce, croce nel senso sofferenza ovviamente, eh, croce i tuoi problemi, ok, va bene, ok. Allora, qui dice un salvare prego, salvare. Salvare prego. Un messaggio molto personale, particolare, quindi secondo me è per qualcuno. Salvare prego. Non so se è chiaramente collegato, magari si collegherà nei prossimi giorni e avremo la conferma, ma è molto articolato, quindi salvare prego. Salvare prego. Sì, 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 è per qualcuno questo messaggio. Infatti dice anche qua, vedete, probabilmente dice qualcosa, eh, dice c'è Dio, certo, c'è, c'è Dio, certo, no? Come per dire che forse questa persona che dice il messaggio non ha, è disperata, magari non crede più in Dio, pensa delle cose magari che non sappiamo, no? E dice c'è Dio, certo, ok? Magari avete dei problemi che sovrastano, ecco questo che voglio dire. Io non sapendo la situazione non riesco a, ma è sicuramente chiara per chi lo deve ricevere, ecco questo che voglio dire. Se ci sono più di un riferimento è chiaramente è così. È molto articolato, quindi quando sono così è difficile che li diano così a vuoto, se non c'è qualcuno che li ascolta e che li deve riceverli, eh. Certo, Dio, scusatemi, c'è Dio, certo. C'è Dio, certo. Certo, ok, c'è Dio, certo, allora c'è Dio, certo, ho sbagliato a scrivere io, ok, va bene, andiamo avanti, ok, è un messaggio molto accurato. C'è un Enzo, ok, Enzo, allora qui c'è Enzo, allora qui Enzo, faccio sentire, aspettate, C'è che c'è ancora, prima c'è, qui c'è Lorenzo ancora prima, ma non penso sia Lorenzo di prima, perché l'ha già dato il messaggio, e poi qui c'è Lorenzo Enzo, qui c'è Lorenzo Enzo, quindi va bene, secondo me è un altro Lorenzo e un Enzo, oppure un Lorenzo che si faceva chiamare Enzo. Ok, si sente bene, qui c'è Lorenzo, Enzo. Ok, va bene, quindi un Enzo, vediamo un po', ah, ha ricominciato a fare il messaggio e non si vede più di nuovo, pazienza. E' troppo bello per durare, andiamo avanti. Dice, babysitter, faccio, babysitter, contro B, babysitter, babysitter, faccio. In modo scherzoso, dice probabilmente, ci saranno probabilmente dei bambini per casa, quindi un po' darsi. Dice, babysitter, faccio, ok, perché segue, penso che sia questo il significato, ovviamente un'ipotesi. Si sente molto bene, babysitter, sentite, babysitter, ok, faccio, faccio, va bene, quindi c'è Lorenzo, Enzo, si sente babysitter, faccio. Ok, quindi, un Enzo, perché Lorenzo, questo qua, può essere non collegato a Enzo. Babysitter, faccio. Se magari ci sono dei bambini in casa, per casa, ecco, voglio dire, potrebbe essere. Anna dice, papà Enzo, però bisogna capire se ci sono dei bambini piccoli, è possibile? Ci sono dei bambini piccoli in famiglia? Perché lui potrebbe essere presente e lo dice per far capire che vede che in casa ci sono dei bambini. Ok, vado avanti. Ok. Vado avanti. Proseguirei così perché vedo che c'è una bella energia, quindi non voglio modificare. Vado avanti così. Vado, vado. Anna dice, era un modo di dire. Era un modo di dire. C'era una cosa che lui diceva in vita, faccio la babysitter, è questo che mi stai dicendo, Anna. Allora vado avanti. Vado. 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 Vado avanti. Vado avanti. Ok, allora Adesso forse stanno riprendendo Sì, pare di sì Ok, sì Vediamo un po' se c'è qualcos'altro Allora, sentiamo tutta la traccia Allora, dice qua va bene Qua va bene Quindi qua va bene Magari uno si chiede O si è chiesto come va, se sta bene Tutto dice qua va bene Quindi risponde a una domanda sicuramente Fatta anche nel cuore Qua va bene Qua va bene Ok, qua va bene Ok Voglio bene Qua va bene Voglio bene Voglio bene Quindi voglio bene Voglio bene Voglio bene Ok Voglio bene Quindi vi voglio bene C'è una Lorenza C'è Lorenza Adesso c'è Lorenza C'è Lorenza C'è Lorenza Quindi c'è una Lorenza adesso C'è Lorenza Quindi se qualcuno ha una Lorenza Cominci a stare attento Scusa Scusa Anzi Non c'è Ciao Lorenza Scusatemi Non c'è Ciao Lorenza Ciao Lorenza Ok Perfetto Ciao Lorenza Quindi c'è una Lorenza Che saluta Ciao Lorenza Ok Sente bene Ciao Lorenza Ok Lorenza Quindi si sente proprio bene Ok Se qualcuno ha una Lorenza Ti voglio bene Ti voglio bene Ok Ti voglio bene Ti voglio bene Ecco ci tengo a far sentire sempre Che è un ti voglio bene sentito Capite Ti voglio bene Ok Quindi Lorenza Ti voglio bene Ti voglio bene E poi dice sempre alla televisione, probabilmente sta rimbruttando qualcuno, dice sempre alla televisione, sempre alla televisione, e per loro questa è una perdita di tempo, ovviamente, non è vita, quindi lo dicono, no? Sempre alla televisione, ok? Sempre alla televisione, sentite, sempre alla televisione. Perché per loro chiaramente non è una cosa, è un po' buttar via la vita, no? Quindi sta davanti alla televisione, no? A vivere la vita ad altri, vogliono che noi viviamo, quindi usciamo, ci muoviamo, ecco, questo vogliamo, no? Vediamo del prato, del cielo, delle nuvole, di tutto, una passeggiata, ecco. E infatti dice, sempre alla televisione, te stesa, quindi qualcuno che sta sempre davanti, aspetta che faccio sentire, eh? Te stesa, quindi, ciao, dice Lorenza, ti voglio bene, sempre alla televisione, te stesa, come per dire che è sempre davanti alla televisione, quindi questa persona, te stesa. Allora, te stesa. Io ci tengo a dire che ciao, ciao, Lorenza, è di là, non è che è Lorenza di qua, in questo caso ciao, Lorenza, è di là, eh, quindi, è una Lorenza questa qua, che può essere una figlia, che poi sia, non lo so, però è di là. Allora, una mamma, non lo so, ti voglio bene, e dice, ciao, Lorenza, ti voglio bene, sempre alla televisione, te stesa, ok? Ecco, te stesa, ok, va bene, quindi un po' polemica su questa cosa, va bene. Dice, ti vedo, come per dire, non pensare che non ti vedo, ti vedo, ti vedo, quindi, ti vedo, ti vedo, ti vedo, ok? Dice un'altra cosa, sentiamo, hai ripartito a fare ancora, sono partiti di nuovo i commenti, non li vedo più, fantastico, infatti dice, tu ti arrendili, ecco, tu ti arrendili, allora, tu ti arrendi, ti arrendili, quindi sta parlando una persona che guarda la televisione, ore e ore sta sempre stesa, non so perché, ma mi deve pensare che questa Lorenza è una figlia, non so perché, e sta parlando a sua mamma, ma la sento così, lo devo dire, perché io lo sento così, quindi questa qua è una figlia, secondo me, e parla a sua mamma, che sua mamma sta dalle ore davanti alla televisione, ok? Quindi deve tornare a questo coso, il nome Lorenza deve tornare, ok? Quindi, se non ci sono tutte queste cose, è inutile dire, io sono davanti alla televisione, io, no, è una Lorenza, e dice, probabilmente, mi sembra proprio di sentire in questo modo, che parla a sua mamma, che si è arresa, no? Come per dire, che si stupidisce davanti alla televisione, cioè, si, capito, si frastorna davanti alla televisione, sta sempre stesa, ecco, però, vedete che il messaggio è per qualcuno che è in ascolto, magari, anche indifferita, perché tante persone me l'hanno detto che non sarebbero state, quindi, può darsi che arrivi il messaggio indifferita, ma arriva. Tu ti arrendi lì, ok? Quindi, non ti arrendi, ok? Anche, vedi, anche Adele mi dice, guarda, adesso sono ripartiti i commenti, cioè, vabbè, Alessandra, Alessandra, Alessandra sta guardando, ok, va bene, vediamo un po', e poi c'è l'Adele, che, ciao Adele, anzi, un bacione cara, dice, pure io sento che è una figlia, quindi anche lei sente la stessa cosa, quindi lo sentiamo tutte e due, quindi questa Lorenza è una figlia, magari chi può vedere i commenti, che non riesco a vederli, se c'è una mamma che chiedeva di una Lorenza qualcosa, probabilmente è per lei, andatene, chi può vedere i commenti, vado a vedere se c'è qualcuno che ha una figlia che si chiama Lorenza, capito? Perché è così. Anna dice, c'era prima una diretta, ah, una mamma che ha una figlia di nome Lorenza, hai visto? E questa mamma come si chiama? Non riusciamo, è ancora in diretta, si è addormentata, poverina, non lo so. Vediamo un attimino. Grazie, Anna, eh, grazie che me l'hai detto. Probabilmente c'era prima un diretta, una mamma con una figlia di nome Lorenza, quindi probabilmente il messaggio è molto probabile che sia per lei, Anna, sicuramente, tu lo sai meglio di me come funzionano queste cose, perché te l'hai già vissuto sulla tua pelle, quindi capisci che io sono sicura quando c'è un messaggio. va bene, andiamo avanti. Allora, tu ti arrendi lì, quindi è una donna che sta arrendendo, no? Tu ti arrendi lì. Sì. Tu ti arrendi lì, andiamo avanti. Vediamo come c'è ancora. Vediamo. 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 e infatti infatti dice Dio fa gioco come per dire non farti gioco di Dio non ti arrendere non farti sovrastare da questo dolore o forse altri pensieri per la mente per cui lei dice questa cosa Dio fa gioco Dio fa gioco sentite Dio fa gioco ok vedete che messaggio bello potente quindi sicuramente va bene vado ok 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 ecco infatti vedete secondo me è un sostegno proprio forte che sta giocando in Italia dice mio Dio come per dire questa persona dice mio Dio mio Dio e dice bisogna andare come per dire anche se il dolore è enorme bisogna andare ok vedi che anche c'è una Lorenza con una figlia nell'oltre secondo me ah ecco Paola dice Gloria Gloria Morgantini è la mamma di Lorenza ecco il suo nome ma non c'è più questa signora collegata probabilmente Gloria Morgantini per potergli chiedere perché secondo me la sta proprio un po' incoraggiando scuotendo vuole che reagisca ecco mi sa un messaggio molto di reazione devo dire mio Dio bisogna andare come per dire anche se il dolore è grande bisogna andare lo so che loro vogliono sempre che noi comunque viviamo la nostra vita bisogna andare sentite bisogna andare ok ok bisogna andare come per dire bisogna vivere questo sta dicendo bisogna andare allora allora vediamo un attimino Gloria ecco forse è arrivata Gloria Gloria gentilmente se è possibile vogliamo sapere se è una figlia che si chiama Lorenza ok se questa cosa ecco se sei in ascolto e se quello che è stato detto ti torna ecco quello che è il discorso anche privatamente se non vuoi dirlo qui cioè parliamo di Dio però il messaggio probabilmente potrebbe essere per te vorrei essere sicura ti voglio bene vedi che ti voglio bene e quando i messaggi sono così lunghi perché ce n'è proprio bisogno è questo che voglio dire di solito ti voglio bene ok ti voglio bene va bene ok dice lei insieme al padre lei insieme al padre qualche sentito padre come Dio padre padre non lo so ecco suo papà è morto prima che nascesse allora guarda Gloria scusami ma mi sa proprio che è proprio il tuo lei insieme al padre se tutto il resto ti torna Gloria è proprio il tuo ed è un messaggio lunghissimo quindi devo dirti che era proprio probabilmente necessario che tu lo ricevessi lei insieme al padre ok lei insieme al padre lei insieme al padre quindi da anche una conferma in questo senso che il padre è di là a questo punto va bene vado avanti ok 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 aspetta qui c'è una cosa allora dice spiego allora sta spiegando qualcosa ok spiego spiego dice spiego allora c'è un pezzo la volta che lunga spiego quindi spegniamo l'aria condizionata spiego qua spiego spiego si è ripresa spiego poi si è ripresa si è ripresa e poi dice si è ripresa faccio sentire poi non ho dubbi si è ripresa ok ok si è ripresa si è ripresa ok e poi ci non ho dubbi non ho dubbi va bene non ho dubbi non ho dubbio comunque non ho dubbi e ho significato lo stesso non ho dubbio ok non ho dubbio senti benissimo ok non ho dubbio ok spiego si è ripresa non ho dubbio ok va bene dovete capire che io non ho non solo non conosco la vostra vita quindi io dico messaggio e poi sono le persone che lo ricevono che devono capire se i nomi e i fatti che vengono detti corrispondono alla loro vita non deve corrispondere su una cosa o un'altra cioè quando un messaggio così complesso deve corrispondere un po tutto ok quindi per chiarezza estrema va bene allora adesso andiamo avanti infatti mi dico spiegalo bene perché probabilmente vedono anche loro che se qualcuno sta facendo un po di confusione dice spiegalo bene no come per dire è inutile dire delle cose capito così ok allora a delle mi dice non è lei la figlia viva bene allora non è lei non risolto il problema quindi se io sto sono sicura come che adelli senti giusto come sento io dice spiegalo bene ho detto ciao lorenza spiegalo bene sentite anche loro lo dicono vi rendete conti spiegalo bene spiegalo bene ok quindi messaggio è lungo perché è lungo ma sicuramente a un ricevente e penso che anche a delle come me abbia ragione perché un messaggio così lungo deve avere sicuramente una come posso dire si rispondono senza spesso capire si modo frammentare perché ciao lorenza ti voglio bene sempre alla televisione sei stesa ti vedo tu ti arrendi lì comunque una donna che si arrende davanti alla televisione che dio fa gioco no come per dire non ti farà gioco di dio mio dio bisogna andare ti voglio bene lei insieme al padre quindi vuol dire che c'è anche un papà spiego e poi si è ripresa non ho dubbio spiegalo bene capito perché qui ha sentito noi che dicevamo che giustamente bisogna spiegarsi bene cioè inutile creare le cose così frammentarie no quando c'è un messaggio così lungo deve corrispondere ok pretende non dico in toto ma quasi perché sono delle cose molto particolari che sono state dette compreso il fatto che c'è il padre insieme a lei ha detto il suo nome ha detto che la sua mamma probabilmente come noi intendiamo che si sta lasciando andare quindi questo messaggio così lungo e per cercare di tirarla su di farla riprendere capite cioè non butta via energie per niente non lo fanno lo fanno quando sono sicuro che il messaggio arriva ok c'è un lello lello è qua dice allora dice mi piace questa cosa dice ovazione lello è qua ovazione ovazione come se fosse felicissimo lello è qua se c'è un lello un lello può essere anche un diminutivo perché lello da fello non lo so lello ovazione lello è qua perché spesso nei messaggi anche il carattere salta fuori un po' no se siano spiritosi anche in vita ecco questa cosa ritorna ovazione ovazione lello è qua aspettate ovazione qua ok ovazione lello è qua lello è qua lello è qua ok lello è qua si sente bene quindi un lello ok va bene vediamo un po' aspetta dice dietro te come per dire sono dietro di te dietro te anche in senso di protezione ovviamente dietro te ok dietro te ok va bene è finita la traccia vediamo un altro spazio perché è finita questa traccia era sulla fine ne facciamo un'altra subito vedesse questo lello qualcos'altro ok vado vado con la registrazione ok vediamo un po' salva progetto no ho già messo questo nome non l'accetta ne mettiamo un altro nessun problema perfetto vediamo un attimino ok vediamo un po' e poi dice io sono proprio qua come per dire non ci credi neanche tu che sia veramente qua io sono proprio qua io sono proprio qua io sono proprio qua ok aspettate un attimo poi dice sto molto bene quindi vuol tranquillizzare sto molto bene ok sto molto bene sto molto bene ok ok quindi andiamo avanti poi dice grazie quindi gratitudine ci sarà un motivo anche per questo dice grazie 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 ricordatevi se queste queste parole ok grazie 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 vi vi dice c'è una cosa un po' particolare dice c'è la sempre un tecnico lì c'è la sempre questa persona faceva lavoretti ok magari è bravo nelle cose manuali capito faceva un po' il tecnico riparava un po' tutto metteva un po' a posto un po' tutto era un po' un punto di riferimento no? e dice c'era sempre un tecnico lì come per dire non ci sono più io però c'è sempre qualcuno che questo ascoltate c'era un tecnico sempre lì sempre lì ok quindi non so allora vediamo un pochettino se riesco vediamo un pochettino Sonia dice l'aveva detto a me in sogno che stava benissimo ok Sonia ti posso chiedere se una persona che in vita sapeva fare tanti lavoretti è una mia curiosità se ho capito bene perché dice c'era sempre un tecnico lì voglio capire se magari ha qualche attinenza la mia curiosità ovviamente se puoi dirmi ovviamente se ti corrisponde tutto il nome anche ovviamente dove corrisponde anche il nome Lello mi raccomando visto che l'ha dato ok faccio sentire ce l'ha sempre un tecnico lì ce l'ha sempre un tecnico lì ok ok va bene intanto va via scatti vedo dei messaggi io ho il ripetitore di fuori dalla finestra penso che più di così non sia possibile finiamo questa traccia un attimino peggio un attimino Allora, per me questo è un problema. Il mio amico, penso che sia Carlo, dice bene d'ufficio, va tutto bene Ilde, sta andando tutto benissimo, bene d'ufficio, ok, penso che voglio di questa cosa, bene d'ufficio, bene d'ufficio, poi dice ciao Ilde, sì, ciao Ilde, quindi bene d'ufficio, ciao Ilde, ok, e poi si sente Carlo. Io penso che sia il mio Carlo, senza voler togliere niente a nessuno, però visto che ho fatto un pensiero per lui in partenza, ok. Carlo, Carlo, allora Sonia dice no Ilde non mi sembra questa cosa, non mi ricordo nulla, ok, va bene, era la mia curiosità. Lucia, sono in pausa a lavoro, ah Lucia, Lucia è venuto un Elia, io non mi ricordo più, non sono sicura, però mi pare che tuo figlio si chiami Elia. Dopo, quando hai tempo, quando non sei in lavoro, vai a vedere il messaggio se è il tuo, perché è arrivato prima, piccolino ma è arrivato, quindi te lo dico. Ah ecco, Alessia dice Lello, mio zio faceva tanti lavoretti in casa, ah lei, allora è il tuo, Alessia è il tuo. Bon, sicura, è così, vedi che ha dato un riferimento preciso, quindi il nome è una cosa, capito, quindi faceva tanti lavoretti, quindi assolutamente corretto, bene, sono contenta, sono contenta. È il tuo Alessia, te lo confermo, assolutamente, perché torna il nome e il discorso del tendico. Allora, invece questo qui è Carlo, sento proprio Carlo, Carlo, eh sì, penso proprio sia lui, Carlo, ok. Carlo c'è, subito Carlo c'è, glielo dio a sua figlia questa cosa, Carlo c'è, Carlo c'è, Carlo c'è, Carlo c'è, Carlo c'è, Carlo c'è, ok. Va bene, quindi ha fatto riferimento al mio nome, quindi penso proprio che sia proprio, sì, sia proprio lui. Quindi sono già passate quasi due ore ragazzi, veramente, io direi, adesso facciamo un'ultima registrazione anche di saluto, soprattutto perché l'ultimo è Carlo, quindi voglio lasciargli un po' di spazio ancora a vedere se viene fuori qualcosa. Lucia è venuto, sì, mi pare di sì, c'è Elia, c'è un Elia, è venuto, è venuto anche a me in metafonia, dice Alessia, ecco vedi, quindi la conferma, anche per la tua metafonia ovviamente. Ok, è venuto subito a salutarti, sì sì, ma non ho dubbi, non ho dubbi, guarda, su questa cosa, perché veramente c'è la stima e affetto sincero, io sono veramente onorata di averlo conosciuto nella mia vita. È stato proprio un raggio luminoso. Vado con la registrazione, intanto che c'è lui, voglio vedere se può dire ancora qualcosa. E poi li salutiamo, ovviamente. Allora, salva progetto con nome. Allora. 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 ok mamma mia cioè sentite questa cosa pazzesca vi ho detto che era Carlo dice io può venire cioè io può venire posso venire subito perché io l'ho detto che se c'è un uomo che vedeva in paradiso è lui io posso venire ok sentite io può venire io posso venire ok ok quindi è proprio lui e adesso sento proprio il suo cognome scusatemi è pazzesco mi dice io sopra la tua testa dice qua sopra di me io intanto lo dico dove sono per proprio per localizzarlo ok io sopra la tua testa ok io sopra la tua testa sentite io sopra la tua testa ok ok quindi la sua energia è sopra di me aspetta un attimo aspetta un attimo sentite cosa dice pastorino adesso scrivo subito pastorino 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 sentite ok poi dice bene di lì carlo sta salutando tutti bene di lì che vuole bene di lì che vuole bene a tutti bene di lì ho la pelle d'oca carlo e si sente benissimo benissimo ascoltate bene di lì bene di lì e poi dice carlo 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 sentite come si sente bene carlo sta salutando bene di lì un bene a tutti voi no c'è una pelle d'oca c'è una pelle d'oca veramente incredibile carlo si sente divinamente incredibile incredibile sentite che cosa dice io per sempre aspetta poi dice la vittoria la vittoria ok come per dire io ho vinto perché nella vita mi sono comportato ottimamente e ho vinto la vittoria la vittoria ok dicendo una frase la polizia la polizia la polizia per sempre il messaggio chiaro per sempre come per dire non è la vittoria effimera che si ha nella vita ma la vittoria per sempre proprio dell'anima dice chiaro la vittoria chiaro per sempre e sotto si sente la mia voce che dice e poi vi salutiamo allora chiaro chiaro ok chiaro e poi dice per sempre chiaro sentite per sempre per sempre sentite per sempre per sempre sentite per sempre bellissimo cioè questa frase è fantastica meravigliosa che cosa emozionante emozionante grazie grazie Carlo grazie veramente grazie a chi permette questi contatti sempre quindi veramente grazie di questi contatti sono quasi due ore dobbiamo lasciarli andare è fatto tardi veramente siamo ancora in tantissimi ma dopo due ore è meglio lasciare è troppo quindi grazie 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 Carlo grazie Marcello che sei venuto anche tu grazie a tutti e al tutto che permette questi contatti andate tutti nella pace nell'auce di Dio bellissimo stupendo sono emozionata sono veramente emozionata e questo mi dimostra che quello che ho sempre pensato che quando è un momento in cui diamo gli occhi alla terra andiamo direttamente in cielo ecco questa è la dimostrazione perché non sono passate nemmeno 24 ore e sono veramente emozionata io vi ringrazio vi ringrazio tutti dal profondo del cuore di aver partecipato come sempre numerosi volevo ricordarvi parlando di cose più diciamo meno spirituali ma importanti l'ultimo incontro prima della chiusura delle vacanze diciamo agosto della sospensione sarà il 31 agosto ci vediamo sul mio gruppo il gruppo metafonico Alfa Live dove farò l'ultima diretta e poi dopo ci sarà la pausa estiva e poi in settembre vedremo se ripartire come ripartire magari con qualcosa di diverso non lo so devo pensarci un attimino non vi abbandono ve lo assicuro ci sarò sempre ok comunque adesso tentativamente questa data qua 31 ultimo giorno di luglio perdonatemi le 21 e 30 su gruppo metafonico Alfa Live vi aspetto un abbraccio ciao a tutti grazie grazie buonanotte grazie grazie